Perché ne parliamo proprio, guardate qua, cosa ne parliamo a fare? Eccoli qua, estrazione 111 delle 9.15, guardate questo bel 23 oro, un attimo solo, qua stiamo giocando privatamente, no di che ne vogliamo parlare, estrazione 111, oro 23, forse solo una la vincita. E nell'altra giocata, oro 23, come vedete? Ma mica è finita qua amici miei? Ecco un'altra giocata, qua non si vede bene il terzo numero, ma non fa niente, tanto ci sta pure il giocato sotto, vedete? Questa è la 110 però, potrebbero vedere se è giocata la 111, mentre gli altri giocatori, senza problemi, eccole qua. Tutto in casa, sia quella privata, sia quella omaggiata, quella che vi ho omaggiato, 3 secca, ok? Così avete la possibilità di giocare all'otto stasera, gratitamente. E vi ricordo, chi non ha preso il Leonotto, 3, 4, 0, 157, 67, 75, perché per il 3 secca, se ce ne avete messo 2 euro su 90 euro, se ce ne avete messo uno su 45, se volete vi comprate il Leonotto. Oppure il 10 all'otto serale che ieri sera colpite con 2, 4, 5, 6, 7. Ciao! Ciao!